Guardi, io penso una cosa, che innanzitutto sia fondamentale dire che non c'è nessuno scontro, dall'altro tutto quello che stiamo facendo è rispettoso della Costituzione, non si costituiranno 20 ministeri degli esteri piuttosto che di altre materie, perché stiamo parlando semplicemente di alcune funzioni a livello di materie già prestabilite. Faccio un esempio così ci capiamo tutti. C'è una materia che è la protezione civile, noi possiamo chiedere una funzione della protezione civile, quindi resta nazionale la protezione civile, la funzione potrebbe essere quella di far fare ai presidenti di regione le ordinanze di deroga nel momento in cui hanno calamità naturali a livello regionale, significa non attendere le carte da Roma, tutto qua. Il ministero degli interni ha deciso di far fare i passaporti agli uffici postali, non è che avremo 20 ministeri degli interni, ma i passaporti li potrebbero fare anche per essere gli uffici postali.